Centrarsi su quella che la sicurezza del mondo dei giochi sia l'accezione che riguarda la tutela di chi gioca, perché questa è una delle funzioni essenziali dell'amministrazione, ma anche con riferimento sempre in termini di sicurezza dei giochi anche a determinati aspetti patologici che sono in particolare tutti i tempi, perché d'altra parte tutto è andato di pari passo con l'evoluzione del mercato, quindi anche di venire a cala in determinate situazioni specifici.